Momento di difficoltà per il Napoli di Gattuso, 0.6 è la media punti della gestione del tecnico calabrese. Nelle cinque partite gestite alla guida dei partenopei, quattro sconfitte ed una sola vittoria. Una media punti che assolutamente non è incoraggiante. Si parla addirittura di dimissioni presentate da Gattuso dopo la partita contro la Fiorentina e respinte soprattutto dallo spogliatoio. Ci si attende una risposta immediata in Coppa Italia contro la Lazio e nel fine settimana c'è Napoli-Juventus di campionato. Lo spauracchio della Fiorentina di Effenberg e Battistuta, quella che retrocesse e che chiuse al secondo posto il girone d'andata sotto la gestione radice e poi retrocesse alla fine della stagione, è un vero e proprio fantasma che aleggia anche dalle parti della tifuseria bianco-azzurra. Che cosa dire? C'è da dire che serve una scossa, serve una ripresa immediata da parte del gruppo, problemi di natura mentale più che fisica, probabilmente nello spogliatoio, problemi che sono sotto i riflettori ormai da tempo e che si risolvono per esempio con la causa tra quelli che vengono definiti Rayola Boys nei confronti di De Laurentiis per le multe decise dalla società del Napoli sotto la gestione Ancelotti per quel ritiro, vi ricordate, dopo la partita contro il Salisburgo, che poi non venne fatto per un ammutinamento, una protesta da parte dello stesso spogliatoio. Da lì una caduta, una discesa libera, una caduta verticale del Napoli in classifica e ripeto, con un grandissimo spauracchio, quello addirittura della retrocessione. Sarà così? Serve una scossa? Una scossa potrebbe essere un nuovo cambio in panchina? Non crediamo. Sta di fatto che però Ancelotti non può essere più ripreso, visto che ha fermato per Leverton, sta di fatto che servono i punti, serve una reazione soprattutto dei senatori, proprio quei senatori, che sono in odore di cessione non solo a gennaio, ma anche e soprattutto nel mese di giugno.